Nella mattinata di oggi Francesco Bonito ha ufficializzato la giunta comunale che lo affiancherà alla guida della città per i prossimi cinque anni. Contestuale la prima riunione per dar seguito alle prime progettualità. È una squadra giovane, di alto profilo, capace di tenere dentro il giusto mix tra innovazione ed esperienza, espressione del nuovo centrosinistra che guarda al futuro, ha fatto sapere il primo cittadino. A proposito di centrosinistra è rilevante la mancata concessione di ruoli, almeno fino ad ora, al gruppo di Tommaso Sgarro, determinante per la vittoria al ballottaggio. Ad affiancare il sindaco ci saranno invece Maria Di Biceglia nel ruolo di vice sindaco e assessore al welfare, Teresa Cicolella alla sicurezza e polizia urbana, Rossella Bruno per cultura, politiche giovanili e sport, Olga Speranza all'attuazione del programma e fondi europei, il tecnico Pietro Gianfriddo su bilancio e programmazione e Mario Liscio per ambiente e lavori pubblici. Bonito intanto prepara già il secondo atto. Vi saranno ulteriori interlocuzioni con le forze politiche per allargare ancora, eventualmente, la compagine di governo, promette l'ex magistrato. Il riferimento è a senso civico, che non vede ancora nominato un proprio delegato, che con tutta la probabilità potrà essere Luigi Giorgione. Resta il nodo legato al gruppo di Tommaso Sgarro, che ha appoggiato convintamente Bonito al ballottaggio, conducendolo alla vittoria su Franco Metta. L'assenza di uomini in giunta fa pensare ad un ruolo d'opposizione per il professore e i suoi. Uno scenario completamente lontano dagli abbracci che hanno occupato il pomeriggio di lunedì 18 ottobre e dai proclami del comizio di ringraziamento. Di fatto, l'unità del centro-sinistra è, al momento, un'incompiuta.